Oggi vediamo come realizzare vari tipi di task, cioè fare in modo che un certo codice si è eseguito con una temporizzazione senza avere un delay, quindi senza inserire delle pause bloccanti, cosa inaccettabile in un firmware che deve funzionare in modo reattivo quindi raramente troverete in un firmware industriale, professionale, dei delay bloccanti perché è come se voi tirate il freno a mano, vi coprite gli occhi e le orecchie e state aspettare quello che accade vediamo che tipi di timer esistono e come realizzarli, iniziamo subito negli ultimi video sulla SER abbiamo parlato di task, rivediamo alcune dei task che abbiamo usato in modo da poterli eventualmente riempiegare i lavori successivi possiamo creare task di vario tipo, sono task non bloccanti, quindi non utilizzano la delay e permettono al codice di girare senza mai fermarsi è ovviamente una soluzione migliore perché così il vostro sketch può essere attento a tutto quello che accade per esempio rilevare una pressione di un tasto, cosa che non può avvenire con un delay il primo tipo di task è quello semplice, in cui all'avvio dello sketch conteggiamo un certo periodo di tempo passato questo tempo attiviamo un'azione, una modifica di questo task è quello ad eventi in questo caso il task è spento fino a che non accade un evento l'evento scatenante per esempio un sensore che passa un livello o un tasto premuto o un segnale in arrivo fa partire una temporizzazione che poi dà avvio al task che ha una durata limitata al termine del task ci rimettiamo nella condizione di poter attendere un successivo evento e quindi far ripartire il task dopo lo stesso periodo di tempo T abbiamo poi un task periodico di tipo simmetrico come per esempio è un blink quindi abbiamo un evento che si verifica, dura un certo periodo di tempo T poi sta spento per lo stesso periodo di tempo e continua a ripetersi in questo modo l'ultimo tipo di task un po' più complicato è quello asimmetrico è un task periodico, cioè che si ripete nel tempo ma dove la durata dei tempi di acceso e spento sono differenti quindi avremo un tempo di accensione e un tempo di spegnimento questi sono differenti, io vi farò vedere la soluzione più semplice in cui i tempi sono regolari ma potreste anche fare in modo che ci siano più fasi con tempi anche diversi di volta in volta in tutti e quattro i casi usiamo un sistema molto semplice andiamo a registrarci il tempo espresso in millis voi sapete che quando Arduino viene avviato all'interno c'è un contatore che conteggia i millisecondi dall'avvio possiamo accedere a questo valore con millis quindi se questo è il momento in cui accendiamo Arduino, questo è il tempo che procede noi avremo questa casellina in cui ogni millisecondo troviamo un valore aggiornato quindi sarà un valore crescente ogni volta che resetto riparto da zero possiamo usare questo come se fosse un orologio e quindi per andare a fare scattare un task andrò sempre a confrontare un tempo che mi sono salvato con l'ora corrente per vedere quanto tempo è passato dal tempo iniziale in cui mi sono registrato il numero di millis facciamo un esempio immaginate che ho il mio Arduino che sta funzionando e in un certo momento siamo al numero di millis 123 io qui voglio attivare per esempio il mio task allora mi vado a scrivere sul mio foglietto il 123 chiamo questo foglietto T1 dopo un po' di tempo, immaginate che voglio attendere un tempo pari a 1000 millisecondi dopo un po' di tempo ricontrollo il mio orologio cioè vado a leggere millis vado a vedere quant'è, qui siamo a 150 vado a confrontarlo con il valore che ho nel mio bigliettino quindi ho 150 che è il tempo del mio Arduino io sul mio foglietto c'ho scritto 123 faccio la differenza tra i due, vedo che non è ancora 1000 e quindi aspetto, vado avanti così fino a che a un certo punto arriverò a 1123 in questo momento vado a chiedere l'ora ad Arduino interrogando millis quindi Arduino mi dirà sono le 1123 vado a confrontarle con il mio foglietto dove ho scritto 123 faccio la differenza e vedo che è proprio uguale a 1000 cioè il tempo che devo attendere allora posso dire ok, è ora di far scattare il timer quindi eseguire il task, dopo aver eseguito il task vado a rissegnarmi sul mio foglietto l'ora corrente quindi per il prossimo giro sul mio foglietto avrò scritto per esempio 1123 e ripeterò questa scenetta di andare a controllare l'orologio per i successivi 1000 e 1000 secondi fino a che poi scatterò di nuovo è meglio procedere facendo sempre la differenza come ho fatto io c'è il rischio che questo millis dopo parecchio tempo quindi una cinquantina di giorni si resetti ci sono varie teorie, varie tecniche su internet si può fare una cosa semplicissima aggiungere un task al nostro sketch che faccia resettare via software Arduino in un momento in cui sia adatto o sicuro farlo quindi avremo un task che a un certo punto sapendo che il sistema è in una condizione tranquilla mi fa il reset in modo che tutto riparta da zero questa è una delle possibili soluzioni forse un po' brutale ma è molto semplice come soluzione vediamo ora il codice dei vari task il task semplice per visualizzare lo stato del task useremo un led quindi faremo pin mode 13 output ci serve come abbiamo detto prima una coppia di variabili per segnare il tempo sono di tipo long unsigned in modo di avere una maggior ampiezza quindi arrivare a un numero molto più alto quindi unsigned e long facciamo T1 ed IT dopo un po' di volte che utilizzerete questo sistema vi verrà automatico quindi preparare subito queste due variabili T1 è il foglietto in cui scrivo l'ora ed IT è la variabile che uso per fare la differenza all'interno del loop devo calcolare la differenza quindi dentro di T metto l'ora corrente chiamando millis meno T1 il tempo che ho salvato la prima volta che verrà eseguito dentro T1 ci sarà zero come faccio a far scattare il timer vado a controllare con un IF se DT ha raggiunto la soglia che mi sono impostato quindi se è arrivata a 1000 se DT è arrivato a 1000 conviene mettere maggiore uguale perché il loop non avanza di un millisecondo per volta quindi non sappiamo qual è lo scarto che avrò tra una lettura e l'altra quindi è meglio mettere maggiore uguale a questo punto qui dentro metterò quello che voglio che sia eseguito nel mio task semplice per esempio facciamo digital write del pin 13 e lo accendiamo ovviamente una volta scattato resterà sempre acceso ma lo lasciamo così perché voglio presentare solo la struttura di base possiamo verificarlo andando a costruire il tutto dentro Tinkercad più caricato è il codice dentro Tinkercad avvio la simulazione vedrete che dopo 10 secondi il led si accenderà e resterà acceso ecco qua vediamo ora il secondo tipo di task quello a eventi in questo caso andremo ad aggiungere come evento un pulsante quindi la pressione di un tasto aggiungerò nel codice pin mode 2 input perché collegherò un pulsante al pin numero 2 se non vi ricordate come collegare un pulsante facciamo qua un semplice schema quindi abbiamo il nostro arduino abbiamo sul pin 13 il led con la resistenza resistenza io metto sempre da 390 perché ne ho un cassetto pieno il pulsante lo colleghiamo al pin 2 ci serve un partitore avremo il 5 volt qui il tasto collegato a grano con una resistenza da 10k qua diventa un pochino più complicato intanto abbiamo sempre la coppia T1 e DT si serve una variabile boolean che chiamiamo run e mettiamo uguale a false questo perché noi premeremo il tasto ci sarà una certa attesa che è l'attesa del timer allo scadere il timer viene attivato ma dopo che è stato eseguito il compito all'interno del task cioè il codice all'interno di questo if dovremmo rimetterlo nello stato di attesa allora come facciamo a verificare l'innesco facciamo un if digital read del pin 2 quindi se qualcuno preme il tasto allora vado ad attivare il mio task lo faccio impostando dentro T1 il tempo millis cioè vado a scrivere sul foglietto l'ora corrente metto un piccolo delay perché quando si premono i tasti è necessario mettere un certo ritardo altrimenti viene letto troppe volte quindi 300 millisecondi è un ritardo adatto per far sì che noi riusciamo a mettere il dito sul tasto e a toglierlo mettiamo run uguale true per dire che il task può iniziare a girare andando alla parte superiore qui andremo sempre a leggere il dt a differenza di tempo facendo l'ora corrente meno il tempo che è scritto su T1 quando dt ha raggiunto il tempo che si siamo prefissati per il timer in questo caso 3000 millisecondi e siamo nella condizione di run lo indico con la doppia e commerciale che sta per end e run che è una booleana quindi mi dà true e false quindi quando premo il tasto run diventa true posso andare a far scattare questo if perché devono essere vere tutte e due quindi run true e il tempo deve essere superiore a 3000 qui dentro posso fare per esempio accendere e spegnere rapidamente il led quindi vado a copiarmi digital write qui metto low in questo caso metteremo un delay giusto per vedere il led che si accende e si spegne facciamo di 100 millisecondi e poi devo mettere run uguale false per tornare nella fase di attesa andiamo a vedere se il codice funziona possiamo sempre farlo con Tinkercad questo è il nostro codice avvio la simulazione dopo che è partita premo il tasto aspettiamo 3 secondi dovrebbe accendersi il led e poi rispegnersi ecco se è acceso e spento possiamo farlo ripartire premendo un'altra volta il tasto il terzo tipo di task è quello simmetrico cioè quello più simile al blink in cui ripetiamo un evento ogni tot secondi anche qua useremo la solita coppia di variabili T1 e T2 ci serve, visto che faremo lampeggiare il led una variabile che chiamo led e sarà la variabile che tiene lo stato del led la mettiamo uguale allo dentro nel loop avremo sempre la solita struttura in cui abbiamo il calcolo della differenza del tempo tra millis e il tempo che mi sono registrato su T1 quando questa differenza ha raggiunto il valore che ci siamo prefissati qui lo facciamo lampeggiare ogni mezzo secondo allora faremo questo andremo a riscrivere subito sul nostro foglietto il tempo corrente quindi T1 uguale millis per essere pronte a ripartire e poi aggiungiamo quello che vogliamo sia fatto allora andiamo a cambiare lo stato del led facciamo led uguale not led in modo che ogni volta che entriamo dentro nel task vado a girarlo quindi la prima volta sarà lo la seconda sarà true e poi vado a impostare il pin con digital write del pin 13 con lo stato led quindi questo è tutto quello che serve fare vediamo anche in questo caso l'esecuzione facciamo avvia e come vedete ogni mezzo secondo il nostro led lampeggia nell'ultimo caso abbiamo una situazione leggermente più complicata quindi ci teniamo sempre questo sketch però questa volta questo 500 non è fisso ma è variabile e dipende dalle fasi che abbiamo previsto quindi pensiamo di fare un blink non simmetrico quindi con tempi differenti qua dovremo mettere una variabile la chiamo tempo che dobbiamo cambiare a seconda della fase in cui ci troviamo allora qui sopra andiamo ad aggiungere una variabile tempo facciamo int tempo e la mettiamo inizializzata per esempio a 100 il task funziona esattamente nello stesso modo quindi andremo ad accendere e spegnere il led però dobbiamo mettere delle istruzioni per modificare questo tempo le lego allo stato del led quindi dico se l'ed è true visto che booleano posso non mettere niente altrimenti faremo qualcos'altro qui sotto quando l'ed è uguale a true vado a impostare tempo uguale a 100 altrimenti in caso contrario tempo diventerà uguale a 1000 in questo modo ogni volta che entro dentro il task vado a reimpostare la variabile tempo così che l'attesa successiva abbia una temporizzazione differente verifichiamo il funzionamento su tinkercad diciamo via simulazione vedete che ha un blink veloce e una pausa lunga abbiamo detto che potrebbe esserci il problema che il millis va in overflow quindi a un certo punto diventa molto grande quindi qui potremmo avere un dt negativo e comportamenti inattesi si può in questi casi andare ad aggiungere una funzione di reset quindi creo un void la chiamo rst qui dentro vado a chiamare un'istruzione in assembler asm volatile virgolette gmp0 chiudo virgolette punto e virgola in questo modo questa istruzione riporta arduino all'inizio come premere il tasto reset questa istruzione posso chiamarla con un task esecuzione singola quindi come abbiamo visto occhio a dove la utilizzate perché se la mettete direttamente piantata dentro il loop vi resetta e non riuscite più a riprendere il vostro arduino quindi è una situazione molto pericolosa fatelo con cognizione per esempio facendola scattare magari a ogni fine giornata viene fatto questo reset eventualmente si può anche pensare un sistema esterno che dà un impulso sul pin di reset del vostro arduino bene avete visto i 4 timer principali quindi quello semplice quello ad eventi quello ripetitivo e quello ripetitivo con tempi differenti che ho definito asimmetrico sono concetti sempre utili e se scrivete software di un certo tipo vi accorgerete che userete spesso questi accorgimenti perché non potete avere uno sketch che a un certo punto si blocca in attesa che passi del tempo bene se fossero dubbi o domande lasciatemi un commento vi risponderò appena possibile vi saluto vi ringrazio ci vediamo domani ciao